Questo è uno spettacolo che appariva al visitatore che entrava dalla porta ovest è indubbiamente questa è una delle piazze più belle del mondo ogni volta che si torna qui è un'esperienza nuova non si finirebbe mai di stare qui a guardare le ombre le suggestioni una meraviglia la storia che ha visto questi luoghi e i luoghi specialmente che hanno visto tutta la storia tutti i personaggi e tutti i personaggi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.